Buongiorno a tutti dagli studi della nuova TV per l'appuntamento meteo, per raccontare la giornata di ieri, una giornata caratterizzata da tante piogge, piogge che ha interessato tutta la nostra regione in modo omogeneo, ma in alcune zone c'è stata pioggia piuttosto intensa, purtroppo anche con dei danni come le croniche riportano sulla costa marateota, insomma c'è stato un quantitativo di pioggia notevole, a Castrocucco di Maratea i dati della centro protezione civile della regione Basilicata danno circa 167 mm, dovrebbe essere questo il valore della pioggia caduta ieri sulla zona di Maratea, anche la zona nord della costa tirrenica calabrese ha avuto molti danni, così come a Tortora, a mare con auto addirittura sollevate dalla furia del fango della pioggia, dei torrenti in piena, proprio quindi alla foce del fiume Noce c'è stata questa forte, questo ingente quantitativo di pioggia che è caduta sulla zona tirrenica, ma tutta la Basilicata come dicevo ha avuto delle piogge piuttosto intense, qua e là sparse con millimetri, ad esempio 75 mm sul Lago Negro, 56 mm su Melfi, 50 a rotonda, sui due colpologhi è caduta una pioggia più regolare se vogliamo, 30 mm a potenza e 20 a Matera, nella notte si sono esaurite le ultime precipitazioni intense, man mano oggi abbiamo avuto delle schiarite, stiamo avendo delle schiarite, ci sono le ultime proprio rappresaglie di questa perturbazione piuttosto intensa che ha avuto calore, ha avuto energia dal calore del mare, quindi ora per fortuna la situazione va verso il miglioramento e ci sono buone notizie, per diversi giorni non dovremmo avere più precipitazioni, poi la vedremo meglio con l'aiuto anche degli spaghetti. Vediamo ora l'immagine del satellite, un'immagine che mostra la perturbazione che si sta allontanando appunto dall'Italia, la parte più bianca, vedete ormai raggiunta la Grecia verso la Turchia, sta andando, rimane della nuvolosità irregolare sulla parte meridionale dell'Italia e altra nuvolosità arriva dalla Francia ma impatta contro l'alta pressione che nel frattempo va rinforzandosi, quindi non dovrebbe più interessarci questa perturbazione perché ormai si va a tuffare in un campo anticiclonico, quindi non favorevole. Vediamo ora lo zoom sull'Italia, come dicevo gran parte della penisola è sgombra da nubi, c'è un po' di nuvolosità alta e stratificata sulla Sardegna, un po' sul canale di Sardegna e il canale di Sicilia, nuvolosità che rimane ancora dal Molise in giù, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia orientale, con qualche residuo a precipitazione ma ormai le precipitazioni forti sono lontane, vedete la macchia bianca ormai sta andando velocemente verso est, quindi con questa situazione del radar, della satellite andiamo a vedere la previsione con la cartina di Meteosetto, una cartina riferita alla seconda parte della giornata di oggi, una nuvolosità irregolare come abbiamo visto man mano con il passare delle ore tenderà a diminuire, ancora qua e là qualche pioggia sulla parte sud-est della regione, qualcuna nella parte dei confini con la Puglia, però siamo su valori veramente irrisori, non avremo precipitazioni significative e poi in serata avremo una situazione che volgerà sicuramente al bello. I venti sono forti da nord-ovest oggi, quindi spazzeranno via il cielo durante la serata, però il freddo e il fresco quantomeno si farà sentire perché nonostante le temperature siano ancora nelle medie, siamo a un paio di gradi a di sotto delle medie, però con il vento si farà sentire, quindi stasera dovremmo coprirci di più, vedete i valori, 17 gradi la massima oggi raggiungeremo a potenza, ieri non abbiamo superato i 14 e su Matera intorno ai 19 gradi, le minime si sono mantenute piuttosto miti, 11 a potenza, 14 a Matera per via proprio delle precipitazioni e della nuvolosità. Andiamo a vedere ora la previsione per la giornata di domani, come dicevo la perturbazione che arriva dalla Francia troverà un baluardo nell'alta pressione, quindi non arriverà sull'Italia se non con qualche velatura, abbiamo invece una situazione di bel tempo con l'alta pressione di rinforzo al sud, vediamo la previsione per domani, una nuvolosità molto molto scarsa, prevarranno come dicevo situazioni di cielo sereno, qualche velatura, quella sparsa, qualche nube innocua lungo le zone interne, ma nulla di più, le temperature risentono di questa situazione favorevole dal punto di vista del cielo più sereno e quindi avremo temperature in aumento, 19 a Potenza, 21 gradi a Matera per quanto riguarda le massime, le minime con il cielo un po' più sereno scenderanno di qualche grado, è normale, sappiamo quando di notte è sereno, la temperatura tende a scendere, 9 a Potenza, 11 a Matera, però vedete già i valori vanno risalendo verso valori, siamo già nella media stagionale. Vediamo ora, ci spostiamo alla giornata di domenica, ancora pressioni in ulteriore aumento, questo significa ulteriore stabilizzazione dell'atmosfera e lo vediamo con la cartina di meteo 7, una situazione che vede cielo ancora una volta sereno o poco nuvoloso su tutta la nostra regione, le temperature risentono, vedete di questa situazione, tendono a portarsi sui 21 gradi su Potenza, 22 a Matera, sono valori sicuramente, leggermente al di sopra delle medie, tocchiamo di nuovo i 23, 24 localmente, anche i 25 gradi sulle zone orientali, insomma una situazione che promette bene anche per i giorni successivi, la ventilazione nel frattempo dopo i venti forti di oggi e di domani mattina andrà scemando, quindi la ventilazione in attenuazione con venti deboli ancora da nord ovest, ma in ulteriore attenuazione. Inizia la settimana prossima, vi dicevo prima, ci sono buone notizie, per diversi giorni non dovremmo avere altre piogge, infatti vediamo come inizia la settimana, lunedì una situazione facsimile a quella del weekend, quindi a sabato e domenica, con cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso a parte delle locali pelature e temperature che si alzano ulteriormente, un grado al giorno andremo su valori tipici di settembre più che di ottobre, 22 a Potenza, 23 a Matera, su tutta la regione avremo temperature leggermente al di sopra della media, un ulteriore aumento, le minime si mantengono più o meno nei valori medio, anche qui un grado al di sopra, 10 a Potenza, intorno ai 12-13 gradi a Matera, con una ventilazione scarsa, assente o comunque in prevalenza da nord, dai quadranti settembre, parliamo di ventilazione davvero debole. Ora ci spostiamo agli spaghetti, per vedere la tendenza, come dicevo prima abbiamo diversi giorni in cui si prospettano giornate di sole e andiamo a vedere gli spaghetti, ci vengono in conforto, vedete la linea bianca che rappresenta le medie dei 30 scenari possibili, va sempre sempre al di sopra della linea rossa, che come sapete, ormai avete imparato, la linea rossa è la media trentennale delle temperature a 1500 metri di quota, in questo periodo dovrebbe essere intorno ai 10 gradi la media a 1500 metri di quota e a parte oggi che abbiamo temperature un po' più basse in quota, da domani le temperature risalgono e da domenica si portano stabilmente al di sopra delle medie di 2-3 fino a 4 gradi al di sopra delle medie e c'è molta univocità di questi modelli perché vedete la linea bianca è piuttosto stabile e quindi per diversi giorni avremo temperature sopra la media e anche la parte bassa del grafico ci dice che piogge per molti giorni non ce ne saranno, qualche modello porta del ritorno delle piogge dopo il 21-22, insomma ci sono anche possibilità, buone probabilità che le piogge possano addirittura scivolare poi verso fine mese, quindi infatti vediamo l'ultima cartina che vi voglio far vedere, quella proprio di giovedì prossimo, ci spostiamo quasi di una settimana, quindi andiamo a vedere la cartina di Meteosetti, ci mostra una basilicata con tanto sole, proprio perché l'alta pressione regnerà per tutta la prossima settimana, questo significa buone notizie soprattutto per gli agricoltori, soprattutto perché è il periodo di semina, soprattutto perché anche in questo periodo c'è la raccolta delle olive che è una raccolta anticipata come un po' tutte le cose, quest'anno è stato tutto in anticipo di una quindicina di giorni e vedete la prossima settimana, ci garantisce bel tempo, questo è giovedì, giovedì ci dice che avremo tutta la regione temperature massime ovunque, sopra i 20 gradi, comprese tra i 20 e i 25 gradi, quindi approfittiamone tutti per fare il lavoro in agricoltura, anche un altro buon periodo per i funghi perché dopo tutte queste piogge sicuramente arriveranno un altro carico di funghi, quest'anno è stata una stagione particolarmente ricca, soprattutto perché da agosto è poi piovuto molto, quindi dopo un'iniziale fase estiva con molta siccità, maggio, giugno e luglio, poi da fine luglio, inizio agosto le piogge sono tornate a cadere, fortunatamente non sono buone quando fanno danni, ma quando cadono in modo piuttosto regolare, sicuramente sono positive. Non mi resta che augurarvi una buona giornata, arrivederci per la previsione meteo per la prossima settimana e buona continuazione con i programmi della Nuova TV, è tutto.